Si tratta di un progetto deliberato dalla precedente amministrazione regionale, ma la cui importanza io la voglio sottolineare è che vedrà impegnata la Regione per un rifinanziamento diretto alle imprese che vorranno assumere, nelle loro attività, delle donne che hanno subito interventi derivanti dal tumore al seno. La Regione concorre al pagamento del trattamento, mentre le imprese si assumono l'onere del versamento dei contributi. È evidente che ci si preoccupa in questo caso non solo della cura delle pazienti, ma anche del reinserimento e quindi mi permetto di garantire, non dico la felicità come direbbero i costituzionalisti americani di due secoli fa, ma quanto il benessere anche sociale di queste persone.